Buonasera ai telespettatori di Rete 7, ben ritrovati, vediamo insieme le notizie di oggi e di domani. Intanto sino a venerdì le linee 17 e 38 subiscono deviazioni di percorso in grugliasco per lavori. Sino a giovedì compreso, come già avete sentito, emergenza smog livello 2 con limitazioni alla circolazione, divieto di circolazione 0,24 per i veicoli Euro 0, diesel e benzina, compresi ciclomotori e moto. Trasporto persone, veicoli diesel Euro 1, 2, 3, 4 e 5, immatricolati prima del 1 gennaio 2013, fermi dalle 8 alle 19. Per il trasporto merci, veicoli diesel Euro 1, 2, 3, 4 e 5, immatricolati prima del 1 gennaio 2013 e benzina Euro 0, fermi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Veniamo alle notizie di domani, mercoledì 9 gennaio, dalle 7 alle 18, lavori edili in via della Rocca 49. Vi ricordo infine che continua la chiusura di corso Sacco e Vanzetti, tra corso Regina Margherita e strada antica di Collegno, in attesa delle verifiche strutturali sul viadotto. È tutto, buona serata, buon viaggio.